Le mascherine non riescono a rovinare il panorama da cartolina di bocca d'asse, anche perché non tutti le indossano. Eppure qui, come in altre vie e strade principali di Genova, portarle è già un obbligo. Noi ci sentiamo leggermente più protetti, facciamo tutto quello che c'è da fare, sappiamo che se tocca a noi ragazzi, no, insomma. Se vogliamo arginare questa cosa, qualche cosa bisogna fare. Da domani con Marche, Veneto e Trentino, tutta la Liguria torna in zona gialla, per capire perché bisogna venire qui, nell'Imperiese. L'incidenza nell'ultima settimana è di 647 casi ogni 100.000 abitanti. Un record negativo, spinto soprattutto da un alto tasso di non vaccinati e dagli scambi con la Costa Azzurra. A 20 miglia il numero di contagi è di nuovo aumentato. Quanto incida la variante Omicron però non è ancora chiaro, soprattutto per la mancanza di strumenti per sequenziarla. Nessun problema, nessuna richiesta di green pass o di tampone negativo. Siamo tornati in Italia. I controlli, dall'altra parte, sono a campione ed è prevista una deroga proprio nelle zone di confine, per consentire gli scambi commerciali e la libera e veloce circolazione delle persone. La stessa velocità con cui il segretario dei frontalieri ha capito di trovarsi di fronte. Una nuova ondata. È tutto sul cellulare. Ecco qua. Preso il Covid, la malattia è pagata al 100%. Richieste così sono solo cresciute, tanti in malattia per Covid con sintomi non gravi. Proporzionalmente, un 25% non vaccinato, quelli sono quelli a rischio.